Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici consente di visualizzare la pressione dei pneumatici sul quadro della strumentazione. Segnala al conducente una pressione dei pneumatici insufficiente. Il valore di riferimento della pressione dei pneumatici deve essere ripristinato dopo aver effettuato un controllo con i pneumatici a freddo e, se necessario, aver regolato la pressione dei quattro pneumatici. È possibile effettuare queste operazioni tramite lo schermo multifunzione.